Bentornati al nuovo appuntamento con le piliole di A2x2 con Deutzpark. Oggi vi presentiamo la serie 6C prodotta negli stabilimenti di Treviglio. La gamma 6C è una di quelle che ha più varianti e con più possibilità di personalizzazione, a testimonianza del fatto che questi trattori sono chiamati a svolgere svariate elaborazioni in azienda. Con un peso operativo poco superiore ai 55 quintali e un carico massimo omissibile di 8500 kg, abbiamo un mezzo ideale per qualsiasi applicazione, dalla preparazione del letto di semina alla semina stessa, dalla sarchiatura ai trattamenti fitosanitari, dalla concimazione allo sfalcio, dall'imballatura alla raccolta del fieno. La gamma è offerta con tre tipi di trasmissione per accontentare ogni esigenza, dalla pragmatica Power Shift alla confortevole variazione continua TTV all'innovativa RV Shift. Per ognuna delle tre versioni sono disponibili tre motorizzazioni, con potenze che vanno dai 116 ai 143 CV. I modelli si chiamano 6.115 C, 6.125 C e 6.135 C. Le due macchine che vediamo in questi video sono le ammiraglie, un 6.135 C TTV e un 6.135 C RV Shift in edizione limitata Warrior. Questa versione speciale si aggiunge a quella municipale dal classico colore arancione. In questo caso la configurazione, oltre alla colorazione nera, prevede un sedile girevole a sospensione pneumatica e supporto lombare, il climatizzatore manuale, il tappetino, la radio DAB e una serie di accessori cabine esclusivi. È anche possibile dotare il trattore di tutti i fari a LED. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS